della sicurezza, però Enzo qui non c'è tanto un problema di sicurezza, diciamo di migrazione, qui c'è un grande problema di gestione proprio di questo quartiere in termini di sicurezza ancora più pesante, qui si spaccia la droga, lo dico io, non lo dicono loro, si aprono i circoletti dove si spaccia la droga, corrono a volte, coppen motociclette e sparano che il cristolo e la polizia e i gravidi non vengono nemmeno a fare il sopra l'uomo, insomma questa è diventata per molti aspetti la terra anche nessuno, allora noi perché abbiamo deciso di sostenere te e perché andremo a votare domani te anche in queste zone popolari e difficili, perché come è lavorato a Salerno si può fare anche qui e niente è impossibile, anche qui può migliorare la qualità della vita delle persone, anche qui si può mettere un presidio di polizia che girano, rimangono all'interno della caserma, anche qui si possono chiudere i circoletti abusivi che vengono e spacciano la droga, si sono risolti i problemi in altri quartieri, non capiamo perché qui non si possono risolvere, Antonietta si fa il cuore così dalla mattina e dalla sera e non può farsi fuori così e camminare e passeggiare e farsi paurare salendo alle spalle. Grazie mille!